A volte la giustizia ha tempi lunghi, anzi il sentire comune è che solitamente i tempi della giustizia siano troppo lunghi, ma oltre alla dinamica temporalmente lenta, la giustizia a volte segue anche strade impescutabili, magari colpendo un uomo molto in lacco agli anni che tutto sommato non aveva commesso un grande reato, quando già ne aveva 75 di anni. E quanto è accaduto ad un 84enne fiorentino? Nel marzo del 2007 spintonò un poliziotto che gli aveva chiesto i documenti. Condannato in via definitiva dopo quasi 9 anni, ora appunto all'età di 84 anni, è stato arrestato dai carabinieri. L'anziano, residente nel fiorentino ma originario della provincia di Palermo, dovrà scontare una pena detentiva di 4 mesi agli arresti domiciliari per il reato di resistenza pubblico ufficiale. 9 anni fa, nel corso di un controllo in Viale degli Olmi, nella zona dell'isolotto a Firenze, si rifiutò di esibire i documenti e reagì aggredendo un agente della squadra mobile. Ieri i carabinieri della stazione di Signa lo hanno identificato nel corso di normali controlli e hanno scoperto che a suo carico era stato emesso un ordine di esecuzione per l'espiazione della pena. Così l'anziano, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato nella sua abitazione.